Il giubbotto della moto, lo smalicato in pelle, un po' di robe che nonostante hanno la sua età hanno il loro gusto estetico. Qualche vigno di occasione. Circa 170 espositori provenienti da tutta la Puglia e da molte regioni d'Italia con articoli vintage, artigianato, modernariato, vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli, orologi, cosmesi, biopiante e design. Edizione numero 8 per il Vintage Market Bari, la mostra al mercato ispirata alla cultura del riciclo dedicata agli appassionati degli oggetti del passato. Durante la kermesse organizzata da Bidonville Vintage Store, esercizio del bando di Bari 2000-2024, un negozio non è solo un negozio, i visitatori si sono immersi nelle proprie passioni, alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un'altra vita o semplicemente curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che hanno riportato alla mente ricordi piacevoli del passato con un unico comune denominatore, la sostenibilità. Abbiamo superato tutti i record, tantissimi espositori provenienti da tutta Italia, la gente ci ha raggiunti qui già nelle prime ore della mattina ed è davvero una grande soddisfazione. I visitatori si lasciano trasportare da questo mood vintage, quindi a 360 gradi, cercano il capo vintage, così come all'interno c'è l'artigianato creativo, c'è il modernariato, ci sono stilisti, ci sono nuovi brand. Felpe, pantaloni, giacche. Sempre appassionate al vintage? Sì, da sempre. Allora, stavo cercando delle colonne sonore, quella del padrino, se la trovo.